Ben tornati a ore 7, è il momento dell'ospite, oggi con noi abbiamo Natalino Giacomini, segretario generale della CGL di Udine. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, naturalmente l'abbiamo chiamato perché domani è il primo maggio e insomma i temi del lavoro, le discussioni sul lavoro non mancano, ma prima vorrei fare una domanda al segretario Giacomini, dunque parliamo delle votazioni, almeno per quanto riguarda l'affluenza e gli unici dati che abbiamo a disposizione parlano di un meno del 50% che è andato a votare mentre il 4 marzo era andato il 77, quindi insomma quasi il 28% degli elettori che erano andati a votare a marzo e ieri è andato al mare e è rimasto a casa. Perché questo? È un tradimento? Il risultato, come dire, si potrebbe dire di troppa politica, di questa fase in cui siamo stati inondati di campagna elettorale, no, io penso invece che sia il rifiuto, il rifiuto da parte di alcuni, sbagliando secondo il mio modesto parere perché al voto ci si va, è legittimo ma ci si va, però questo emerge da una politica sempre molto più distante dal punto di vista concreto, dalle problematiche della società e della gente, molto adita alle promesse, agli slogan, magari anche efficaci, alla comunicazione, beh, forse io avendo una certa età mi ricordo di una politica forte, dialettica, anche dal punto di vista, ma passionale e vicina a quelli che sono i problemi, scendendo in campi magari diversi, tra opposizione, tra centro, tra destra e tra sinistra, però in maniera concreta. Oggi questa politica stenta, stenta in termini generali, beh, in Friuli probabilmente paghiamo. è una cosa che volevo farla appunto, perché questo vale per nazionali, ma vediamo com'è in Friuli, per in Friuli com'è? Ma in Friuli abbiamo delle situazioni che richiederebbero, avrebbero richiesto, richiederebbero e quindi richiedono anche una politica in grado di affrontare i problemi veri che insistono su una regione che sembra virtuale, che faceva parte del famoso Nord-Est, ricco, efficace dal punto di vista. Oggi anche in Friuli, Venezia e Giulia, senza fare paragoni con altri, insomma, in Friuli e Venezia e Giulia ci sono forti problemi, sia nell'ambito del lavoro, sia nell'ambito dell'economia, come risposta ai lavoratori, come risposta alle imprese, lo dice anche un sindacalista, alle imprese che sarebbero, sia come risposta ai servizi, quelli più istituzionali, quelli che devono essere garantiti. L'assenza di questa qualità di risposta dalla data, o la timidezza data dalla precedente giunta, ha permesso l'affollarsi di nuove esperienze politiche. Ecco, io volevo approfitto di un articolo che è uscito sul messaggero di Pordenone, lo vediamo insieme. Nuovi esuberi, precariato in crescita, l'allarme lanciato da CGL, Cisle Will, Pordenonesi, si registra un numero dei contratti, ma non delle ore di lavoro, i posti a rischio annunciati dal gruppo Sassoli, e dal grafico studio di Arba. Quindi, contratti con poche ore di lavoro, magari a giornata o a tempo breve e esuberi nelle aziende, questo nel Pordenonese. Nella provincia di Udine, nell'Udinese, com'è? Beh, non siamo distanti da quella realtà. Abbiamo avuto una fase in cui un po' tutti abbiamo creduto, rispetto alla dinamica della crisi, che si fosse esaurita e che quindi si aspettava la ripresa, il riconsolidamento da parte. E quindi la ripartenza della funzione. Invece noi qui abbiamo ancora una coda della crisi che abbiamo purtroppo vissuto negli ultimi dieci anni. L'affiorare di altre situazioni di crisi, dovute chiaramente alla permanenza in questa situazione. Io amo dire in questa fase, anche da un'assenza da parte della politica, sia nazionale ma anche regionale, in relazione al supporto, al contenimento e alla possibilità di acquisire il rilancio, al contenimento della crisi, rilancio immediato. Sull'occupazione però ci sono due aspetti, un aspetto che condivido, che è stato sottolineato dai colleghi di Pordenone, l'altro va aggiunto. Sì, le ore non tornano perché abbiamo part time forzati, perché ormai a determinare la qualità, la capacità, l'impostazione dell'occupazione sono le necessità delle imprese. Quindi vuoi lavorare? Vieni a lavorare a part time, con contratti di lavoro con ore molto ristrette. Magari 4 ore al giorno? Part time non richiesto, non voluto, ma determinato da questo tipo di ragionamento, viene prodotto anche da un'organizzazione del lavoro e quindi l'impiego della manodopera, tutto funzionale a rispondere a quelle che sono le sollecitazioni del mercato o i limiti nell'organizzarsi dell'impresa. Poi c'è il secondo dato, su queste 53 mila assunzioni in questa regione, nei primi sette mesi del 2017, sono dati IMSS quindi non abbiamo l'aggiornamento, di questi 53 mila, no, questi 53 mila sono tutti assunzioni a tempo determinato. Quindi a tempo determinato sono... Dei quali 2.300 sono stati confermati. Ora è evidente che noi siamo in un mercato del lavoro tutto fagocitato, tutto predisposto alle assunzioni a tempo determinato. E hanno poco da dire la politica, gli amministratori, siamo arrivati a 507 mila occupati. Però se la qualità dell'occupazione è questa, servirebbe a qualcosa. Un altro tema che c'era oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano era il primo maggio di chi invece lavorerà, ma non parliamo dei medici, dei poliziotti o anche dei giornalisti che fanno un servizio pubblico, invece di chi ha il consenter, chi è nel commercio, chi è nella grande distribuzione anche elettronica. e sempre su quella pagina del messaggero Veneto l'appello di Duzza ai consumatori boicottati da shopping nei festivi. Questo è un altro tema che va sottolineato. Cosa pensa questo proposito? Penso che da un lato, mi permetta il paradosso, come dire, la situazione di crisi produce il fatto che il termometro per l'uscita è la riapertura al consumo, quello non concreto, non necessario, al consumo. La crisi si supera se, dall'altra parte, abbiamo poco consumo perché la crisi contiene, abbiamo le imprese che si stanno organizzando in maniera veramente paradossale e assurda. Cioè imprese che non avrebbero la necessità di lavorare sette giorni su sette in qualsiasi tipo di festività. Ora io sono per dire, buon sindacalista, il 25 aprile, primo maggio. Insomma, almeno quelli. Ecco, io sono però perché se non ci sono quei servizi indispensabili, dall'infermiera ai poliziotti alla sicurezza, ad altri, anche a lavoratori a ciclo continuo, non debbano lavorare la domenica. Anche il settore del commercio, possiamo dire che con otto domeniche all'anno si esaurisce, adesso butto lì un numero, ma perché è, come dire, improponibile un atteggiamento che mantenga in piedi una situazione per cui il lavoratore è vessato, il cittadino non consuma e c'è anche lì un impiego di risorse economiche e di personale che non ha senso e né significato. Se anche dovesse aumentare il consumo, io ritengo che in un ragionamento di buon senso, così come aveva proposto questa regione con la giunta precedente... Sì, ecco, perché l'ora vicepresidente, vedremo oggi cosa succede, Polzonello aveva fatto una legge che insomma almeno salvava alcuni capisaldi. E' stata dichiarata non legittima... Legittima da parte dello Stato, del Corte Costituzionale, sì, quindi purtroppo bisognerà però ulteriormente spingere. Anch'io sono per dire il 25 di aprile l'avete fatto, non l'avete... Il primo maggio, sì, boicottiamo. Bisognerebbe farlo in maniera un po' eclatante, non solo non andando a fare la spesa. Magari facendo dei picchetti fuori, diciamo. Facendo picchetti, dimostrazione, flash mob, chiamiamolo come vogliamo, per dire guardate non ne possiamo più. Io uso dire, semplificando e banalizzando, i centri commerciali soprattutto d'estate sono una risorsa importante per quegli anziani che vanno lì. Anziani che possono stare al fresco e magari non si possono permettere... Ecco, sì, questo sì, è una banalizzazione. Però è importante anche quello. Però anche lì sì. Ecco, dunque, a prescindere da chi vincerà oggi, due richieste che il sindacato fa alla nuova giunta del Friuli Venezia Giulia, due cose, due impegni concreti per il lavoro. Allora, secondo me è stato poi anche sottolineato dall'iniziativa che la CGL regionale, col segretario William Pezzetta abbiamo fatto con i candidati. Il primo aspetto è un impegno preciso rispetto alla qualità del lavoro. Anche qui, senza fare... Questa è una regione per la quale è possibile avere un intervento concreto e pratico, quindi con competenza primaria, sulle politiche attive del lavoro. Alcuni aspetti attengono a livello nazionale, ma alcuni sono. L'incontro tra domanda e offerta, posto che le imprese cominciano a dire non trovo i lavoratori con questa qualifica. Ieri nel settore del legno, domani nel settore metalmeccanica. Siamo in grado di impiegare delle risorse importanti pubbliche per l'incontro tra domanda e offerta. C'è il centro per l'impiego regionale, l'agenzia. Dobbiamo mettere in sinergia tutti quegli attori che permettono un monitoraggio, quindi di avere in un unico dato quella che è la richiesta delle imprese. Attivare dei soggetti in grado di formare e riqualificare il giovane che esce o chi ha perso il lavoro. Gienti di formazione, riqualificando un attimo quelli che sono gli aspetti qualitativi, funzionali a questo tipo di azione, possono essere una risorsa importante. Dentro questo aspetto ci deve essere il coinvolgimento da parte delle imprese, che a quel punto, lo dico così ma non me ne vogliano, ma per essere capito, nel momento in cui io formo quei lavoratori, quelle lavoratrici con quelle qualifiche, non è che l'impresa possa decidere ma forse li assumo, no, li assumo a punto. Poi come li assumerà in un percorso finalizzato al tempo determinato? Ci metteremo d'accordo. Però se non c'è questo tipo di ragionamento, di politica attiva del lavoro, che deve essere accompagnato di una cosa che oggi non abbiamo, sono gli ammortizzatori. La possibilità da parte del lavoratore o lavoratrice che perde il posto di lavoro di beneficiare degli ammortizzatori. Noi abbiamo fatto una proposta. In qualche maniera assomiglia a qualche tratto del reddito di cittadinanza, dei vari redditi che poi sono sistemi che sono normalmente utilizzati nel nord Europa. Cioè è un po' quella la strada? Sì, ecco, noi lo abbiamo definito reddito di continuità. Per uno che perde il posto di lavoro, ha esaurito gli ammortizzatori dove ci sono, dove non ci sono, ci deve essere un reddito di continuità minimo, che però deve essere agganciato alla disponibilità di poter rientrare. Di farsi formare in termini di, per quella qualifica che l'azienda chiede. Certo, vanno definite delle regole, ma questo tipo di atteggiamento oggi non c'è. Ma lo vediamo da che cosa? Dal fatto che le imprese dicono non siamo in grado di trovare alcune figure. Devono andare all'estero e dagli enti di formazione ho la stessa regione che dice non riesco a recuperare questo. Questo darebbe risposte sia ai lavoratori disoccupati ma anche ai tanti giovani, che invece di uscire e di migrare potrebbero rimanere qua. Bene, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, domani lei sarà a Cervignano per la manifestazione di Cervignano per il primo maggio. Le auguro un buon primo maggio per... Io invito tutti ovviamente a partecipare a una delle più grandi manifestazioni del nord-est d'Italia. Grazie mille segretario. Adesso noi ci fermiamo per un paio di minuti e dopo torneremo con le notizie. A tra poco.